Ok! Ok! Lunga, su destra 4 lunga, attenzione, tieni sporca! Vai, tieni sporca, eh! Forza! Dentro, 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 dentro! 200 sconnessi, vai! Vai, 200 sconnessi, sinistra 4 meno! Sinistra 4 meno, 30, sinistra 4 meno, fin subito, destra 2 lunga! Vai, 200, 2 lunga, in sinistra 4, vai! Destra 2, destra 2, sinistra 3, attenzione, diventa 2, chiude! 3, diventa 2, chiude! Chiude, chiude! 30, sinistra 5, 50, attenzione, 8 e destra 3, chiude! Destra 3, chiude! Chiude! 50, vai, 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 vai! Sinistra 4, subito, destra 2, sinistra 4 e destra 3, eh! Destra 3, non è 2, 3, vai! Chiude, subito, sinistra 4, meno meno, tieni! Chiude, attenzione, attenzione, vai, destra 4! Destra 4, chiude, sinistra 4 meno, sinistra 4 meno, diventa 2, 2, 2, 2, 2, 2, 100! Attenzione, rettornate, destro stretto! Vai, rettornate, destro stretto! Vai, 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 vai! In accello destro, 150, tornate, sinistro stretto! Vai con gli sbagli, più la fila, più pulito! Tornate, sinistro stretto! Vai, 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 vai! 50, destra 3, 30, attenzione, in destra 3 meno! Destra 3, 30, attenzione, destra 3 meno! 3 meno, vai! Contanta, attenzione, tornate, sinistro lungo! Tornate, sinistro lungo! Oddio, vai! Guardate, sinistra 4, 30, molta attenzione, tornate, destro! Sinistra 4, 30, molta attenzione, tornate, dentro! Eccolo! Vai, vai! Puliscio e scappa via! Vai, va, 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 via! 30 al ponte, sinistra 3 meno! Sinistra 3 meno, ovvio, eh! 3 meno! 30 al ponte, sinistra 2! Vai! Sinistra 2, sconnesso! 50, sinistra 5, 50, destra 3 meno! Destra 3, 50, sinistra 5! Sinistra 5, 100, moltissima attenzione, molto sconnetto! Vai! Sinistra 4, stupido, se si prendete, tornate, dentro, stane, lo sai, eh! Vai, 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 tutta la destra, vai! Vai, perfetto, così, lo volevo! Diciamo un pochino, vai! Sinistra 6, piena, torri, così l'hai fatto bene! E destra 6, sì! E destra 4 più! Destra 4 più, in sinistra 5! Sinistra 5, sinistra 4! E destra 6, sinistra 4! E destra 6, 50, sinistra 3! Sinistra 3 qui! In sinistra 5, viene a sconnessa! E attenzione, tornate destro! Vai, destro! Di tornate a sinistra, sale! Vai! 100, attenzione, 8! Sturdo, destra 3 più più! Destra 3 più più! Dopo il dosso! Eccolo qui, eh! 3 più più! E sinistra 5! Sinistra 5, in destra 3! Destra 3! E stupido, più in versione, sinistra! Per più in sinistra, vai, guarda! 8, 8, 8, 8, 8! Vai, prima dentro, prima dentro! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 5, 50, sinistra 6! 100, destra 6! Attenzione! Subito, stiglana, entra a destra! Sinistra 6! E destra 6! Destra 6! Subito, stiglana, entra a destra! 150, 100, 50 metri! Vai, 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 vai! 100, sinistra 5! Sinistra 5! 30, destra 5 più! Subito, stiglana, entra a destra! 150, 150! 5, 50! Vai, perfetto! Vai, 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 vai! 300, hai gazzoni destra 6! Subito, molta attenzione, tornate a destra! Con la rotaballa interna! Tornate a destra! Con la rotaballa interna! E accendo a sinistro! 50, molta attenzione, tornate a destra! Molta attenzione, tornate a destra! Ritornate a sinistro! Oggi, però, eh! Ritornate a sinistro, stretto, lungo, lungo! 30, sinistra! 30, attenzione, tornate a destra! Lungo, lungo! Occhio! Tornate a destra, lungo, lungo! E tornate a sinistro! Tornate a sinistro! E accanto a destra 5! Vai, 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 vai! Destra 5, sinistra 5! 200, sconnetto! Attenzione, taglia a destra 5! Non lo sai! E se ne devi pagliare! In sinistra 5! In sinistra 5! 80, sinistra 5! E alla casa subito, destra 3! Alla casa subito, destra 3! Vai, bravissimo! Vai, vai! Vai, vai! Vieni! Vai, vai! Vieni! E ora, Dio carico, parta il gioco! Ma non lo so che c'è il 3 di treno! E vabbè, dai, oh! Dio, vieni! E ora si vede, te lo dico! Muoviti perché... Cioè, per i treni, eh! Perché alle fomacce è molto importante! Ma abbiamo fatto un bel giro, però, eh! A me lo trovavo a Puma! Dai, la vedo io, dai! 5, 22, 7! Alla ora!